Stasera cucinario allo staff. Bello, che devo mangiare? Parfaglia al salmone. Andiamo. Cala past, olio, cipolla tritata. Consoliamo bene. Salmone affumicato. Filetto di salmone fresco. Facciamo una tartare, la teniamo da parte. Dentro. Due filetti, siamo abbondanti. Vino bianco, erba cipollina, panna fresca, sale, cuccia di limone, succo di limone, olio buono, a tavola, uova di salmone. E' buonissimo.